Il villaggio ha finalmente completato la filiera dei corsi per estetista. Questo per noi è una notizia molto molto bella, molto interessante, perché permette di avvicinarsi a un settore che oggigiorno ha molta richiesta commerciale, ha molta richiesta e richiede del personale che sia preparato in modo adeguato. Abbiamo esattamente messo in pista quattro corsi. Il primo corso è il corso delle 70 ore ed è il corso dedicato alle ragazze che hanno fatto già un percorso triennale come scuola professionale per operatore del benessere. A loro necessita fare questo piccolo step per diventare estetiste di primo livello, quindi estetiste dipendenti di centri. Questo ovviamente è un passo importante per loro, perché vengono emesse assolutamente nel mondo del lavoro con la possibilità ulteriore, poi nella loro crescita professionale, di arrivare all'ultimo nostro step, che è la qualificazione, per essere eventualmente indipendenti e autonomi. Proprio per chi desidera diventare professionista autonoma, quindi poter essere una lavoratrice autonoma e aprire un'azienda, abbiamo creato anche il modulo delle 300 e delle 900 ore. La differenza sta in base ai requisiti di chi viene iscritto e quindi bisogna ovviamente informarsi, ma è una bellissima opportunità, perché per coloro che sono già estetiste e desiderano o dirigere dei centri per conto terzi o aprirne dei propri, è proprio la porta verso l'autonomia e l'indipendenza professionale. E infine abbiamo creato il Biennale, cioè le 1800 ore, proprio per diventare estetista. E qui spendo due parole per dire a chi non lo sapesse cosa vuol dire essere estetista oggi. L'estetista oggi è una figura molto qualificata, è una figura moderna, una figura attiva, dinamica, che trasversalmente può essere inserita in vari settori, non solo nel tipico centro estetico. È un lavoro bello perché ti mette a contatto con la gente, con le emozioni, impari a conoscere gli altri, impari a conoscere meglio anche te stessa. È un lavoro che ha anche una valenza sociale oggi, perché l'immagine è molto molto importante. Pensate che addirittura nei momenti di difficoltà della vita di una donna, e non voglio entrare oltre, vengono inseriti anche in ospedale dei particolari corsi e dei particolari servizi d'estetica, perché la nostra figura esterna, che è la nostra, diciamo così, la nostra carta d'identità verso il mondo, ha una valenza importante sul nostro benessere psicofisico. Fare oggi l'estetista è fare un lavoro che ha una grandissima importanza anche sociale. È vario, è vasto, e offre grandissime opportunità. Quindi siamo molto contenti di poter dire che oggi possiamo offrire a tutte le persone che desiderano entrare nel settore o starci ancora meglio. Abbiamo tutti gli strumenti per potervi accogliere.